Entra in piena attività il Consiglio Comunale di Aieta, che si è insediato mercoledì sera davanti a un pubblico mai visto nelle assise del piccolo comune montano. La prima seduta del nuovo Consiglio si è svolta nel bellissimo Palazzo Rinascimentale, proprio per poter ospitare gli oltre 150 cittadini che hanno voluto assistere. Il primo punto all'ordine del giorno, la convalida dei consiglieri eletti nella consultazione del 15 e 16 maggio, seguita dal giuramento del neosindaco Giovanni Ceglie, che ha poi comunicato la composizione della sua giunta. La carica di vicesindaco va a Carmelo De Leo, insieme alla delega alle attività produttive. Giuseppe Lomonaco, al suo debutto in Consiglio Comunale, prende la responsabilità di turismo, sport e tempo libero, mentre l'esterno Giovanni Majorana, quelle relative a igiene pubblica, fiere e prodotti tipici. Ceglie ha anche affidato diverse deleghe a vari consiglieri comunali. L'ex sindaco Gennaro Marsiglia, che è anche capogruppo e che molti vedevano come possibile vicesindaco, si occuperà di bilancio, programmazione e finanza agevolata, mentre Gino Forestieri, diarredo urbano, verde attrezzato e pinete. Ad Andrea Grisolia va la delega per l'agricoltura e la zootecnia, mentre il giovane Giovanni Giordano si occuperà di viabilità e acquedotti. Sabato mattina è prevista inoltre una riunione di maggioranza per l'affidamento di ulteriori incarichi. Tra gli altri si pensa a Serena Gazzaneo per i rapporti con la stampa, mentre nell'ufficio di staff potrebbero entrare Lucia Giordano e Giovanni Giordano, oltre a Sergio Nicola, l'ex vicesindaco all'epoca di Marsiglia, e Luigi Carlo Magno, a suo tempo delegato allo sport. Ma la novità di questo consiglio sembra essere la presenza di una guerrita opposizione. Gli oltre 30 minuti che Ceglie ha dedicato alla presentazione del programma, infatti, hanno dato al leader della minoranza l'occasione per i primi affondi polemici. Giacomo Cuomo, in particolare, ha ribattuto agli attacchi anche personali che ha ricevuto nel comizio di chiusura di Ceglie ed ha contestato l'affidamento di responsabilità amministrative a persone non elette in consiglio, a cominciare da Majorana. Argomentazioni a cui ha risposto in particolare Gennaro Marsiglia. Non c'è alcun divieto di utilizzare assessori esterni, ha ricordato l'ex sindaco, ed è dunque legittimo ed anzi utile coinvolgere anche i giovani che non sono stati eletti, ma che fanno parte del gruppo e possono apportare ulteriore entusiasmo ed impegno.